Io come ti posso dire nella mia televisore vedo tutti i personaggi dei cartoni animati ma soprattutto io li so pure imitare Oggi in questo video andiamo a fare che io a voi imiterò i personaggi dei cartoni animati Salve carissimi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video cacciaonastico Io sono Francesco Angerillo e benvenuti in quest'altro nuovo video Oggi in questo video come avete capito dall'intro e dal titolo del video Oggi andiamo a fare non una, non due ma ben tantissimi voci dei cartoni animati Che oggi vi faccio vedere in questo video Prima di cominciare con questo video ti invito a lasciarmi dei like, iscriviti al canale se non l'hai fatto E partiamo subito, buona visione Partiamo subito con i personaggi dei cartoni animati Ciao amici, sono Topolino Spero che voi siate bene E sono tantissimo emozionato Io sono tantissimo emozionato Che voi prenderci i guardi in questo video Io sono tantissimo emozionato Allora Gerry, io ti acchiappo Ehi Che voi prenderci i guardi in questo video Io sono tantissimo emozionato E posso fare come può fuorire la caccia a quel stupido canarino Ehi Non mi offrire così si festro Ancora io mi arrabbio Veramente Io ti faccio vedere io No scordatelo No scordatelo L'ho ingoiato Ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi Io sono Bugs Bunny E soprattutto Chi voi amano le carote Le potete mangiare Io adoro le carote Sono un coniglio io Ciao a tutti Io sono Duffy Duck Spero che voi stiate tutti bene Che io sono il papero Willy Coyote non parla Ciao Sono Willy Coyote Lasciatemi tanti like Ciao Giochiamo insieme Sono Winnie the Pooh E soprattutto Sono l'orso Poo E io sono più piccolo di tutti E sono il migliore amico di Winnie the Pooh Mi chiamo Piglet O Pimpi Ciao a tutti Io sono Tigro E soprattutto Voi siate tutti bene Che io sono tantissimo Emozionato per voi Sono l'asino Or io Come va? Ho un problema da dirvi Ho perso la coda La potete trovare per favore? Sta dietro di te Or Grazie Ciao a tutti Sono Dorato Raimon Trovate il pigro nobite E portatelo da me Patti Patti Mi chiamo poi Sono il teletabistrosso Gabibbo Mi manca Gabibbo di peluche Io non lo ho Gabibbo Se vuoi Faccio la voce di Gabibbo Ciao bella gente Spero che voi siate tutti bene Sono io Il più forte Sono la tartaruga ninja Io sono Saetta McQueen Sono l'auto che va veloce Ciao ciao Il mio nome è Carla Trezzi Potete chiamarmi Cricchetto Che io ho un gangio dietro Pugno in faccia Brutto Che voi avete spinaci Che mi fate crashare i muscoli Sono l'orco di tutti Il mio nome è Sherek Sì il mio nome è Ciuchino Sono tanto emozionato Ehi Ciuchino Cavalcami per favore Certo Sto cavalcando Ciuchino Sto cavalcando Ciuchino Ehi ciao a tutti Sono Spongebob Spongebob Scorpions Mi manca pure Patrick Mister Krabbe Squiddy Limito Ehi ciao Spongebob Sono tanto emozionato di me Mi chiamo Patrick Stella Ciao Giovanotto Che ne dici Vogliamo cucinare i Krabby Patty E una ottima idea Per cucinarli Insomma Spongebob La vuoi smettere di fare baccano Che sto cercando di suonare il clalinetto Grazie Sono tanto emozionato di voi Su per il colpo di karate Sono Sandy Voglio rubare la ricetta segreta di Spongebob Vado subito a rubarla Ehi caro Plankton Non rubare quella ricetta Ancora Mister Krab si arrabbia La mia gamba La mia gamba La mia gamba Bravo Spongebob Impara a guidare Che io ti do la patente Io sono Larry Laragos E posso sollevare tutto Che io ho i pettorali Ehi ciuzzami calzini Io sono Bart Simpson Mettico Mettico Touch Ma sei davvero sicuro Homer Che mangerai tutte quelle ciambelle? Io sono Lisa Simpson E suono il mio sassafono Allora guagliaccelli Credici dobbiamo fare un po' di lezione Della polizia Allora ascolta Bart Dobbiamo fare un piano Per mangiare le ciambelle di Homer Caverna di Boo Come la posso aiutarla? Io sono il dottore E io cuore Homer Simpson Ehi ciao Il mio nome è Ned Flanders Io sono Dumbo L'elefante Sono Dumbo L'elefante Io riesco a volare Io sono un bambino vero Io sono Alex E lui è Martin Io sono Mike Wazowski Banana Noca I banana 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 Bene ragazzi Il video di oggi si termina qui Questi sono i personaggi Dei cartoni animati Che ho imitato io Se vi piace il video Lasciatemi tantissimi like E toccate a voi E imitate tutti i personaggi Dei cartoni animati Come me Imitate solo Quelli come me E imitate altri personaggi diversi Beh noi ci vediamo Alla prossima volta Ciao ciao Ciao